Un abbraccio fatale per sfilare un orologio, una divisa falsa per intrufolarsi in casa e rubare i gioielli. Telefonate con il finto avvocato di turno che dice di aver bisogno di soldi per togliere dai guai un caro parente del malcapitato anziano, che dall'altra parte della cornetta si fida e versa la quota. Che siano nuove frontiere della truffa o abilità consolidate, il comando dei carabinieri della marca ha prontato un vademecum rivolto soprattutto agli anziani, i facili prede anche per le difficoltà fisiche e oggettive nel difendersi. Mille copie locandine che andranno distribuite tra parrocchie e centri per anziani. Una raccolta di suggerimenti a partire da come rispondere a chi bussa in casa vostra. È molto utile preparare una risposta per prendere tempo più che altro. Potrebbe essere un attimo chiamo oppure sta arrivando mio figlio, questo scoraggia molto. Oppure non posso aprire perché il mio citofono funziona male, provi a bussare a qualcun altro. O semplicemente prendere tempo dicendo in questo momento non posso, torni più tardi. Qualunque risposta va bene per prendere tempo. L'importante è non aprire mai la porta, non aprire la borsa, non fornire informazioni personali. Non un invito alla diffidenza, bensì alla scaltrezza nel riconoscere i malintenzionati. Aiutateci ad aiutarvi, il motto del Vademecum dell'arma è un invito a chiamare il 112 quando ci sia anche solo il sospetto di essere stati vittime di una truffa.